Si è chiusa con la visita degli studenti dell'Istituto Tecnico Giolitti di Torino la mostra fotografica Tu Cancro io Donna, promossa a Palazzo Lascaris dal Consiglio regionale con Andos, Associazione Donne Operate al Seno. La visita è stata l'occasione per parlare con i giovani di prevenzione e riflettere sugli aspetti fisici e psicologici della malattia, che come testimonia la mostra può trasformarsi anche in un'esperienza di conoscenza e libertà.